Sono già le parole che stanno uscendo, mettono in evidenza molto chiaramente qual è la svolta straordinaria del percorso che stiamo portando avanti e stiamo realizzando. Un piano di risanamento sì, ma una nuova visione di rapporti. Questo deve essere non più alla ricerca di sponsorizzazioni con il cappello in mano, ma entrare in un progetto condiviso, portare avanti una nuova linea di rapporti col settore imprenditoriale dove gli enti locali collaborano in sinergia su una chiara visione di un teatro che dovrà essere un teatro sostenibile. Sì, ma anche e soprattutto a condizione di comprendere che cos'è un teatro d'opera da parte di tutta la collettività. Si dice ci sono tanti teatri, non è vero, c'è un centro di produzione, una struttura come una fondazione lirica che ha all'interno 270 dipendenti tra orchestrali, coristi, tecnici, amministrativi, specialisti di diversi settori, eccellenze di tutta un'area, di tutto un settore di spettacolo dove lo spettacolo nasce, si costruisce, si realizza, dove vengono realizzate produzioni e coproduzioni, è un centro straordinario di produzione e di irradiazione del sapere. In una società come la nostra, dove sempre meno spazio c'è per la conservazione del patrimonio e dove è sempre più importante la trasmissione dell'eredità culturale alle generazioni successive, un centro di produzione per la lirica, la sinfonica e la danza come una fondazione lirica è un bene imprescindibile per una società che altrimenti si troverebbe culturalmente e produttivamente desertificata. Perché rendiamoci conto molto chiaramente, anche come diceva l'assessore Mezzetti, non c'è una produzione culturale avulsa da una crescita imprenditoriale di tutta la società e della collettività. Di questo il teatro comunale di Bologna è fortemente consapevole ed è consapevole il nostro modo di lavorare in questo senso. Per questo noi abbiamo bisogno di un apporto del settore imprenditoriale all'interno della nostra progettualità in maniera consona. E quando dico in maniera consona parlo di quella percentuale giusta, normale, che deve essere all'interno di una compagine che non può più essere vista soltanto come una gestione della mano pubblica. Quel tempo è finito. Un nuovo tempo comincia ed è un tempo da affrontare assieme sulla base di un discorso molto razionale, molto chiaro, di gestione. La nostra è una gestione trasparente, aperta, chiara, come non è mai stata, però con la consapevolezza che un centro di produzione ha le sue necessità e i suoi costi. E non ci sono ricette campate per aria che vengono emanate da chi si inventa ogni giorno la formuletta di circostanza. Il sistema italiano non è il sistema tedesco, non è neanche il sistema francese, è un sistema diverso. Il teatro comunale di Bologna non è un teatro con più palcoscenici che si alternano come l'Opera di Parigi o molti teatri europei, è un teatro che ha un palcoscenico del 1763 con tutte le problematiche che questo comporta ed è un teatro dove, tanto per dirvi, non c'è neanche la sala prove dell'orchestra. Quindi nessuno si lamenta, ragioniamo per quello che è, ma dobbiamo ragionare in modo razionale a partire da quello che oggi noi abbiamo a disposizione per farlo fruttare al meglio. Come diceva giustamente il sindaco, aumentiamo la produttività, aumentiamo la performatività, conquistiamo la città e che questo teatro sia la casa di tutte le musiche. Quello che è stato detto prima, i festival jazz, i festival angelica, i festival di musica contemporanea abitano al teatro comunale e il teatro comunale ne è orgogliosamente palcoscenico. Di questa apertura a tutte le musiche io sono personalmente una sorta di alfiere, chiaramente, ma ho facile gioco perché con me chi è a questo tavolo e anche molti di voi che ascoltano sono naturalmente partner, partecipi per una città come Bologna che è una città unica non solo in Italia ma in Europa per ampiezza e qualità dell'offerta. Siamo un teatro di innovazione, siamo un teatro progressivo, questo noi lo vogliamo sostenere, a differenza di tanti altri teatri d'opera in Italia, questa è la nostra vocazione, ma lo facciamo con molta determinazione e senza, per carità, idee di grandezza. Naturalmente però è chiara la nostra identità e avere un'identità forte e precisa all'interno di un panorama dove molti fanno anche le stesse cose è un fatto identitario di cui siamo molto orgogliosi. Il teatro comunale di Bologna, teatro progressivo e di innovazione, questo naturalmente portando avanti una politica culturale e imprenditoriale condivisa. Penso che sia importante oggi che l'Art Bonus parta da molte di queste considerazioni.